Allora Guido, Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali, grazie di essere qui, davvero lo apprezziamo tantissimo e immagino che insomma sarai operato di impegni come sempre, soprattutto magari in questi giorni. Grazie a voi per l'invito. Il trattamento appunto dei dati personali da parte della piattaforma che ormai conosciamo tutti perché assurda un po' agli onori della cronaca purtroppo in seguito alla morte di una giovanissima utente della piattaforma stessa in condizioni non ancora che appunto che a miei costi chiarite dall'inchiesta ma comunque insomma il Garante di cui tu sei componente avete ritenuto di dover imporre, di dover porre diciamo dei paletti. Questo peraltro in seguito non è neanche la prima volta che appunto TikTok entra un po' nel mirino del Garante stesso ma se ben ricordo voi avevate già messi addietro, segnalato appunto che le diciamo il vincolo sui minori sui minori di tredici anni appunto non era non era osservato strettamente nella dieta purtroppo. Quindi posso chiederti appunto le ragioni che hanno portato poi appunto al provvedimento di cui parliamo. Allora assolutamente sì però prima ti avevo promesso un cimelio da mostrare e questa è la famosa maglietta di Repubblica Digitale con la quale il progetto è stato lanciato al forum PA di... Ce la fai venire bene? Assolutamente sì, non sono riuscito a indossarla perché abbiamo fatto tardi al Garante, sono appena arrivato, vi avrei fatto aspettare più di così ma insomma questo... Fantastico, con loco, questa ovviamente è un'edizione limitata, insomma un'edizione fatta per quell'evento, poi non so se ne abbiano più fatte ma insomma questa era stata fatta in occasione di quell'evento lì, quindi diciamo sono molto vicino, particolarmente vicino a Repubblica Digitale. Per tornare viceversa alla ragione reale di questo nostro incontro di questa sera, diciamo che il problema è naturalmente più ampio della vicenda che ci porta a parlarne, il problema in generale è quello della circostanza che internet è un posto stupendo ma come tutti i posti stupendi ci sono aree adatte a pubblici diversi. Quindi aree adatte a pubblici diversi con un concetto da declinare in decine di accezioni a loro volta differenti, a noi naturalmente come Garante per la protezione dei dati personali interessa il trattamento dei dati. Se una piattaforma, e questo è il caso di TikTok ed è anche l'origine evidentemente del provvedimento del quale stiamo discutendo e ancora prima del procedimento con il quale ormai più di un mese fa avevamo acceso un riflettore su questa vicenda, se una piattaforma come TikTok si presenta ai suoi utenti dichiarandosi come riservata esclusivamente ad un pubblico di 13 anni, ovviamente ciò che è illecito aspettarsi è che all'interno di quella piattaforma vi sia poi solo un pubblico di ultra 13 anni. Per la banalissima ragione che ovviamente se qualifico la mia attività commerciale come destinata ad un pubblico e non ad un altro è perché evidentemente un altro pubblico utilizzando i miei servizi può incorrere in un qualche genere di rischio. Ora senza pensare alla tragedia di Palermo che evidentemente rappresenta la punta drammatica di un iceberg, però insomma è fuori di dubbio che quel contesto lì è disegnato immaginando un pubblico che abbia almeno 13 anni. Da un punto di vista quindi diciamo alto intanto è ovvio che stiamo discutendo esattamente della circostanza che il gestore di quella piattaforma per far sì che vi sia corrispondenza tra ciò che lui promette e ciò che accade dovrebbe diciamo privacy a parte probabilmente vigilare perché questo scenario effettivamente si concretizzi e cioè perché nel suo parco dei divertimenti non entri un pubblico di età inferiore ai 13 anni. Per quanto riguarda più da vicino la privacy e quindi per quanto riguarda più da vicino il provvedimento del quale discutiamo ovviamente la questione diventa un po' più tecnica e in questo diciamo avvicinarci al cuore tecnico della questione ciò che ciò che c'è da ricordare è che TikTok certamente non da solo ma in compagnia di tutti i principali social network dichiara sostanzialmente di porre in essere con i dati degli utenti due grandi classi di trattamento differenti. Fa alcuni trattamenti dichiara di fare alcuni trattamenti per dare esecuzione al contratto con l'utente detta in termini diversi dichiara che deve trattare alcuni dati per consentire agli utenti di condividere tra di loro i video di pubblicare i commenti di manifestare like o sparare i coricini sullo schermo. Tutto questo ovviamente genera un enorme mole di dati. Chi ha visto il video di chi o chi ha caricato il video alle ore X contenente Y e Z, quanti lo hanno visualizzato e così via. L'insieme di tutti questi trattamenti è necessario per far funzionare la macchina di TikTok. TikTok dice questi trattamenti li faccio a prescindere dal tuo consenso e semplicemente perché tu hai accettato il hai concluso con me un contratto, hai accettato i miei termini d'uso della cartaforma. Ora qui ovviamente c'è una prima riflessione da fare perché se io propongo agli ultratredicenni di concludere con me un contratto e un dodicenne mi dice accetto, dal nostro punto di vista il contratto non si conclude. Perché tu mi dici voglio venderti delle pere e io ti dico voglio accettare delle mele e magari tu poi sarai disponibile a vendermi anche delle mele però fatto sta che siccome la proposta e l'accettazione sono difformi di fatto non si conclude un contratto. Se non si conclude un contratto, questo è un po' il senso della riflessione che sta a monte del nostro provvedimento per stare a questo livello di considerazione, se non si conclude un contratto è ovviamente il gestore di quella piattaforma non può poi dire che pone in essere alcuni trattamenti in forza di quel contratto perché quel contratto non si è mai concluso. Quindi diciamo che una prima nostra riflessione contenuta che poi è tradotta nel provvedimento è evidentemente devi interrompere tutti i trattamenti in relazione ai quali non sei sicuro che chi ha accettato la tua proposta contrattuale fosse nel target da te identificato per accettarla. Perché lì non puoi opporre un valido contratto. Il secondo livello di considerazioni ugualmente importante rispetto al provvedimento è che la disciplina europea sulla privacy stabilisce in 16 anni l'età della ragione diciamo così in relazione al trattamento dei dati personali. L'età superata la quale un interessato è in condizione di disporre da solo dei propri dati personali. La stessa disciplina europea il GDPR dice i singoli paesi membri se lo ritengono possono scendere al di sotto di questa soglia di 16 anni fino ad arrivare a 13. Cioè considerare capaci di prestare un consenso al trattamento dei dati personali per esempio per finalità di marketing anche utenti più piccoli di 16 anni. Il legislatore italiano ha scelto di porre questa soglia a 14 anni. Quindi in Italia da 14 anni in su si è considerati in grado di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali. Ovviamente anche qui il punto è che quando TikTok ad uno qualsiasi dei suoi utenti tra i dicenni intanto anche stando alla sua stessa proposizione commerciale richiede un consenso al trattamento dei dati personali per finalità altra rispetto all'esecuzione del contratto. Cioè leggi per veicolare per trattare quei dati al fine di veicolare verso quell'utente della pubblicità perché questo poi è sostanzialmente il meccanismo di revenue di TikTok e delle altre piattaforme analoghe. Analoghe a queste e ovviamente per poter considerare valido quel consenso deve essere in grado di documentarmi che quel consenso gli è stato prestato da un utente che ha almeno 14 anni. Anche in questo caso come nel caso che abbiamo visto un istante fa se TikTok non è in grado di fornire prova che chi gli ha prestato il consenso ad un trattamento di dati per finalità altra rispetto al contratto ovvero per finalità commerciale di marketing o di altro genere. a almeno 14 anni quel consenso è invalido e TikTok non può porre in essere al contrattamento. Quindi sostanzialmente per la somma dell'una e dell'altra ragione quello che noi abbiamo detto a TikTok con il provvedimento del quale stiamo parlando è se non sei in grado di provare l'età dei tuoi utenti, di quelli che accettano il contratto e di quelli che ti prestano il consenso al trattamento dei dati commerciali, non puoi trattare i loro dati e quindi devi bloccare ogni trattamento di dati personali. Quindi questo è sostanzialmente il senso di quel provvedimento e anche lo stato dell'arte ad oggi nel senso che le nostre carte sono scoperte e adesso attendiamo di conoscere quelle di TikTok. Bene Guido, è molto chiaro anche l'esposizione delle ragioni tecniche, peraltro io nel provvedimento avevo letto che voi vi chiamavate anche condizioni particolari di urgenza che ricorrono in questo caso, ovviamente immagino un po' in conseguenza sia della vicenda tragica in cui TikTok sarebbe stato coinvolto, ossia del fatto che non è la prima volta che appunto voi lo vi chiamate un po' all'ordine. Posso chiederti se tu ritieni che la piattaforma sia poi in grado di fornire appunto una prova, una prova che poi immagino debba anche avere una sua cogenza, che l'utente che si iscrive alla piattaforma abbia effettivamente l'età che dichiara di avere. Quindi è responsabilità della piattaforma di costruirlo. Guarda, qui ci sono due livelli di risposta possibili, forse più di due. Il primo è quello in qualche modo giuridico, burocratico, amministrativo, formale. Quello che mi piace naturalmente di meno, ma che pure esiste. Cioè, come raggiungi un obiettivo che la legge ti impone di raggiungere, se vuoi fare impresa, evidentemente è un tuo problema. E quindi, diciamo, non è l'autorità dover suggerire a TikTok, come a qualsiasi altro titolare del trattamento, come raggiungere il risultato. Certamente TikTok e ogni altro titolare del trattamento sa e deve sapere che se la legge gli impone di considerare valido il consenso prestato da un soggetto che ha almeno 14 anni, essere in grado a richiesta di provare che chi gli ha prestato il consenso a 14 anni è un suo problema. Ma questo è il piano di discussione che in questa vicenda amo di meno, perché appunto è forma verso sostanza. Ma se mi butto alle spalle la forma e guardo la sostanza, ci sono almeno altri due livelli di considerazioni possibili. Il primo livello di considerazione dice che qui stiamo parlando di signori, non TikTok in particolare, ma comunque le big tech che popolano di più il nostro quotidiano digitale che in 15-20 anni hanno letteralmente cambiato il mondo a colpi di tecnologia. Hanno reso possibile ciò che sembrava impossibile e ci hanno accompagnato in un universo che semplicemente 20 anni fa era assolutamente inimmaginabile. e di signori che di noi sanno spesso e volentieri letteralmente più di quello che noi stessi percepiamo di sapere. Lo proveremo, lo penseremo anche da qualche parte in uno fratto recondito della nostra anima, del nostro cervello, ma diciamo non lo abbiamo messo a fuoco, ma loro già sanno che effettivamente quello è un nostro desiderio, è una nostra aspirazione, è una nostra ambizione. Parliamo anche di signori, ma insomma lo racconta la cronaca, tanto quella politica quanto quella del marketing, che sono perfettamente in condizione di indurci a votare chi non avremmo mai pensato di votare o indurci ad acquistare qualcosa che non avremmo mai pensato di acquistare. perché sanno di base in maniera legittima, qualche volta con qualche deriva, organizzare l'informazione e proporci contenuti e informazioni così tanto targettizzati sul nostro modo di guardare il mondo che insomma per dirla come spesso si dice ci sanno prendere, sanno da che verso prenderci per portarci a pensare quello che loro o i loro investitori vogliono che noi si pensi. Ecco, se anche mi fermassi a questa fotografia, io credo che già ad un livello alto la conclusione più ovvia è che è difficile credere che se quel potenziale tecnologico e quella forza di comunicazione fosse messa a servizio di questo obiettivo, devo capire se il mio utente, i miei utenti hanno più di 13 anni o meno di 13 anni, più di 14 anni o meno di 14 anni se mi si dicesse che le menti più raffinate della Silicon Valley o quelle delle zone digitalmente più produttive della Cina sulla base utilizzando gli algoritmi di intelligenza artificiale e di big data di cui dispongono non sanno risolvere questo problema, io diciamo così a caldo tendenzialmente direi non ci credo e in effetti non ci credo. Dopodiché vado avanti in questo ragionamento e passo da questa considerazione alta ad una considerazione nella stessa direzione ma meno alta di così e dico, credo di poter essere convinto che la targhettizzazione commerciale che è poi l'anima del modello di business di queste società sia una targhettizzazione commerciale che è basata su ben altro rispetto alla semplice dichiarazione dell'utente. Cioè se si tratta di vendere o di far vendere probabilmente meglio un giocattolo, uno smartphone, una maglietta questi signori non è che pubblicizzino il giocattolo a chi gli è dichiarato 13 anni e la maglietta a chi gliene ha dichiarati 18. Ovviamente prima di pubblicizzare il giocattolo al target 1 e la maglietta al target 2 fanno analisi di comportamento molto più complesse di così. Cioè quando si tratta di vendere qualcosa per conto terzi e quindi da parte dei loro investitori non c'è dubbio che abbiano l'abilità di incrociare informazioni delle quali già dispongono per sapere ben di più di ogni utente di quanti anni ha o di quanti anni più o meno ha e poter portare a destinazione di ogni utente un contenuto piuttosto che un altro. Allora quello che noi si è detto dall'inizio di questa vicenda quando a seguito del provvedimento qualcuno ha iniziato a dire allora state di fatto suggerendo che per entrare su un social come TikTok sia necessario esibire un documento di identità è no, fortissimamente no è uno scenario che non auspichiamo e che comunque non consideriamo neppure risolutivo nel senso che intanto esibire un documento specie tradizionale o cartaceo nella dimensione telematica non vuol dire assolutamente nulla posso mandarti il documento di chi che sia truccato per come voglio a portata di ragazzino davvero undicenne o dodicenne ma poi soprattutto è uno scenario abbastanza fosco quello di chi ipotizza che a casa di un soggetto privato che svolge legittimamente un'attività commerciale che risponde agli azionisti che sta sul mercato debba o possa formarsi una sorta di anagrafe parallela rispetto a quella degli stati con dentro informazioni prime e quindi quelle riportate sui documenti anagrafici di milioni e milioni di utenti insomma senza dire banalmente per stare al tema dei bambini che oggi ci occupa che su quel documento di identità ci sarebbe scritto l'indirizzo di residenza del bambino innescando evidentemente scenari molto più pericolosi rispetto a quello che stiamo affrontando noi abbiamo detto dall'inizio che la verifica non doveva essere dell'identità ma doveva essere una verifica dell'età deve essere una verifica dell'età nella dimensione digitale si può verificare l'età senza verificare l'identità ricorrendo almeno domani sicuramente uno o qualsiasi degli ingegneri del software di queste società ci offrirà qualcosa di meglio ma insomma per dove arriva un avvocato si può certamente arrivare a questa conclusione sulla base di un'analisi comportamentale di un'analisi comportamentale non troppo diversa rispetto a quella che si fa per finalità commerciale perché realisticamente se ho dieci anni i miei amici all'interno di quella piattaforma non ne avranno 40 o non ne avranno 50 di anni nella media perché realisticamente se ho dieci anni mi soffermerò a guardare con maggior interesse alcuni contenuti rispetto ad altri contenuti perché realisticamente se ho dieci anni mi collegherò e utilizzerò in maniera più assidua quel social da uno smartphone fatto in un certo modo in una determinata fascia fascia oraria e sono evidentemente informazioni che questi soggetti hanno perché evidentemente se ho dieci anni anche dal punto di vista proprio della ergonomia degli smartphone dei dispositivi e quindi delle interfacce interagisco con lo schermo e con l'interfaccia dietro lo schermo in maniera in maniera diversa perché ovviamente faccio più fatica a tenere lo smartphone in mano e con il pollice andare a tappare da qualche parte perché sono probabilmente leggermente più lento di quanto non lo sia chi riesce a tenere più saldamente nelle mani quello smartphone perché magari ogni tanto sbaglierò e per una serie di altre che non probabilmente è chiaro che vogliamo quindi per cui il concetto è io credo e non ho fatica a credere che magari allo stato della tecnica e senza rischiare di dover ammassare in vista del raggiungimento di questo risultato i dati di quelli che hanno in casa esatto non si possa dire se uno ha tredici anni e mezzo o quattordici questo diciamo non faccio fatica a crederlo ma credo che si possa realisticamente dire se ne ha dieci o tredici se ne ha tredici o venti ah guarda Guido è chiarissimo la tua posizione e secondo me gli algoritmi di clusterizzazione no degli utenti dei social sono così raffinate che allora sono in grado di dirti ma probabilmente anche quanti anni e quanti mesi hai l'unico problema però io non voglio trascinarti una discussione su questo è che una cosa secondo me è dire ok clusterizziamo quindi profiliamo questa persona per capire quali sono quali sono i beni o i servizi che io posso vendere più efficace magari il giocattolo al bambino e invece qualcosa di diverso all'adulto il problema è che in questo caso però la verifica dell'età dovrebbe avere sostanzialmente efficace approvatoria deve essere certa non probabilistica perché e poi tu porti la piattaforma in giudizio dicendo perché mi hai detto che questa persona aveva 13 anni invece ne ha 12 naturalmente come dire l'ambizione ha la certezza però è anche vero che l'ombrello del GDPR è quello dell'accountability della responsabilizzazione e in ogni caso nell'universo della privacy noi siamo tradizionalmente abituati a parlare di bilanciamento per cui o per stare al GDPR e per stare ad una delle norme che abbiamo contestato a TikTok di non rispettare il 25 alla privacy by design quindi ciò che conta di più per me in una logica di protezione dei dati è che tu titolare del trattamento il problema te lo sia posto e a quel problema abbia dato una soluzione efficace allo stato dell'arte e allo stato della tecnica la certezza o la perfezione del risultato quando andare in quella direzione potrebbe comportare una compressione di altri diritti o di altre libertà diciamo non è nella logica del GDPR certamente è la logica di un giudizio civile diverso però da ciò di cui stiamo discutendo nel quale il singolo utente dovesse chiedere legittimamente peraltro a TikTok l'annullamento del contratto che con TikTok ha concluso dicendo guarda che ti ho detto che avevo 13 anni ma in realtà ne ho 12 se tu non sei in grado di provarmi che effettivamente ne ho 13 o che ti ho preso in giro oltre dichiararti semplicemente un'età diversa perché la semplice dichiarazione di una diversità ai sensi della nostra disciplina civilistica non è abbastanza per sottrarsi al rischio di un annullamento del contratto evidentemente se tu hai una diversità o se tu non sei in condizione di provarmelo poi quel contratto lo annullerà per davvero però lì è l'azione del singolo di diritto civile in relazione all'efficacia di un contratto e quindi naturalmente la certezza giuridica quella che si persegue quella che noi perseguiamo è quella del disegno e della progettazione di queste piattaforme che sia concepito in maniera tale da scongiurare il rischio che se mi dici che tratti i dati degli ultratredicenni tu tratti anche i dati dell'infratredicenni qui l'approssimazione della quale stiamo parlando degli algoritmi di profilazione diciamo secondo me è assolutamente ragionevole come d'altra parte abbiamo imparato tutti a considerarla ragionevole nella dimensione commerciale quindi non direi ovviamente che non è by default quello che che costruisce il suo algoritmo commerciale per arrivare a distinguere quelli che amano il rosso da quelli che amano il verde poi nei cento che ha bollato come amanti del rosso ne capita uno che chiama il verde vabbè ok è un errore ma non rimetto in discussione il tuo disegno dei processi di trattamento dei dati personali quindi in questo la privacy la protezione dei dati può diventare un terreno se vogliamo quasi di trattativa di dialogo tra l'autorità e le piattaforme e poi magari appunto il discorso immagico non riguardi solo TikTok ma un po' tutte le piattaforme digitali quindi un modo per chiamarle e rendere conto anche del disegno del progetto appunto con cui sono concepite diciamo in tanti pur applaudendo all'iniziativa hanno detto ma questa è una questione di privacy perché evidentemente diciamo la questione che si percepisce più immediatamente a valle di fatti di cronaca come la tragedia di palermo è la rete è un posto insicuro in ragione dei contenuti che ci circolano cioè comunque l'attenzione mediatica è stata almeno originariamente portata alla blackout challenge che esista o che non esista o che esiste se non esistesse in quel in quello specifico momento e che abbia avuto o non avuto un ruolo da protagonista in quella in quella in quella vicenda e quindi sostanzialmente molti dicono ma è un tema altro rispetto alla protezione alla protezione dei dati che naturalmente in questi termini è assolutamente vero dopodiché però la mia sensazione che è anche quella un po' all'origine del provvedimento è che la protezione dei dati possa essere in qualche modo un diritto strumento rispetto alla protezione anche di altri diritti e di altre libertà cioè io intervengo con il grimaldello della privacy ma per ottenere un risultato che è altro cioè sì TikTok sta violando questa naturalmente è la nostra convinzione loro legittimamente sosterranno il contrario la privacy e violando la privacy sta esponendo ad un rischio in ragione dei contenuti nei quali potrebbero imbattersi degli utenti che non hanno l'età che lei stessa dichiara dovrebbero avere per andare a un board quindi io credo che soprattutto complice la dimensione europea della GDPR e le sanzioni oggi consistenti dei quali delle quali delle quali delle quali disponiamo in effetti sempre di più la protezione dei dati almeno finché non disporremo di strumenti migliori di così possa diventare una piattaforma attorno alla quale provare a orientare la regolamentazione la governance dei servizi digitali in una direzione di maggior sostenibilità complessiva il diritto dei contratti è diverso in Europa il diritto dei consumatori è simile ma non identico il diritto alla privacy è quello più trasversale di tutti ovviamente TikTok può accettare un'interlocuzione con una piccola nell'universo europeo autorità di protezione dei dati di un piccolo paese rispetto ai 500 milioni e passa di abitanti europei con la serenità che tanto o questo problema l'affronta qui o questo problema l'affronta da qualche parte quando avesse identificato una soluzione la soluzione più o meno sarebbe una soluzione utile certo se non esistesse questa piattaforma normativa comune la questione sarebbe sensibilmente diversa perché realisticamente TikTok ci risponderebbe quello che per anni hanno risposto ai giudici e alle autorità queste grandi internet company cioè non puoi aspettarti da me che io mi adegui alle regole di qualsiasi paese nel quale vado a operare però qui non si tratta più di adeguarsi alle regole di un singolo paese da 60 milioni di abitanti e 30 o 40 milioni di utenti qui si tratta sì di adeguarsi alle regole di quel paese ma che sono comune a quelle di decine di altri paesi per un totale di oltre di 500 milioni di potenziali utenti quindi il gioco vale la candela ecco quindi non è che che io pensi che TikTok potrebbe venirci dietro e darci un po' diretta perché siamo particolarmente bravi particolarmente cattivi particolarmente muscolosi credo semplicemente che a TikTok convenga cogliere questa occasione ed andare nella direzione che noi auspichiamo perché tanto lo fa per noi e se lo ritrova fatto per un mercato al quale nel suo complesso non può rinunciare in Italia può chiudere come chiunque altro può chiudere in Italia insomma è tutto sommato forse fa versare una lacrimuccia a uno su un milione di azionisti ma insomma non è una roba irrecuperabile certo in Europa le costerebbe qualcosa di più chiudere a questo proposito Guido una domanda un po' più tecnica sarebbe diciamo compito del garante italiano poi eventualmente procede iniziative anche sanzionatorie oppure stante che TikTok in Europa sede in Irlanda è necessario un coordinamento con la vostra controparte irlandese ma la la risposta non è facile perché siamo pionieri in senso assoluto nel senso che questa iniziativa questo provvedimento d'urgenza è il primo in Europa da quando esiste il GDPR e quindi di sanzioni da mancata ottemperanza ad un provvedimento d'urgenza non se ne sono mai viste non siamo mai arrivati nel complesso tra tutte le autorità di protezione dei dati europei europei fino lì la percezione che io ho ma credo che noi abbiamo oggi in autorità o almeno quella più diffusa e che posto che nella sostanza si tratterebbe di contestare a TikTok una violazione altra rispetto a quella che noi abbiamo contestato cioè il tema non sarebbe più non verifichi l'età ma non ottemperi all'ordine di un'autorità quale che sia l'ordine di quella autorità credo che questo che certamente non sarebbe un procedimento d'urgenza ma un procedimento ordinario sotto l'ombrello del GDPR dovrebbe ricadere nelle procedure di coordinamento che esistono tra le diverse autorità che stiedono nel board dei garanti e quindi il risultato ultimo è che la competenza toccherebbe credo all'Irlanda quale autorità capofila in quanto autorità del paese nel quale il titolare del trattamento è stabilito io volevo portare una domanda molto rapida che ci viene dalla nostra pagina Facebook e poi dedicare qualche altro minuto se ce l'hai invece a un tema un po' più generale è la domanda relativa alla tutela che di cui i minori naturalmente nell'approccio agli strumenti digitali a cui hanno diventato e ci chiedono ritieni che la privacy sia sufficiente come strumento per la tutela o probabilmente necessario integrarla con approcci diversi ad esempio una educazione generale sia dei minori sia dei genitori naturalmente all'uso delle piante problemi digitali ma io credo che non si possa dubitare neppure per un istante che noi stiamo giocando un ruolo di supplenza un ruolo vicario nel senso che ovviamente quando su un tema come la tutela del minore interviene un'autorità significa che alle spalle c'è una storia lunga e complessa di fallimenti di un intero sistema educativo la bambina di 10 anni dentro una piattaforma che dice espressamente di essere riservata a un pubblico di 13 anni non dovrebbe arrivarci non dovrebbe arrivarci perché il sistema di tutela e di educazione che è intorno a partire dalla famiglia passando per la scuola dovrebbe ovviamente fare in modo forse che non abbia nemmeno la tentazione di andarci proponendo modelli servizi anche digitali contesti diversi da quello che riempiano il loro il suo tempo quindi diciamo mi sembra persino banale rispondere che è ovvio che serve tanto tanto di più è altrettanto ovvio che il migliore degli scenari possibili rispetto all'epilogo del nostro provvedimento è acqua fresca rispetto al problema che stiamo affrontando perché avremmo messo una toppa su una piattaforma frequentata e importante quanto si vuole ma comunque su una piattaforma ma mentre noi stiamo parlando la tiktok di domani tra sei mesi evidentemente sta venendo fuori da qualche da qualche parte se anche non viene fuori la tiktok di sei mesi i ragazzini di nove dieci undici dodici anni ai quali noi stiamo sbrangando provando a sbrancare la porta di tiktok te li ritroverai naturalmente su un'altra piattaforma più generosa nell'accoglierlo quindi è assolutamente evidente che questo problema non ha una ricetta diversa se non l'educazione a casa e a scuola questo è assolutamente è vero naturalmente qui ed è vero in qualsiasi altra dimensione cioè non è la privacy non sono le leggi penali non è la disciplina sul cyberbullismo non è niente di tutto ciò cioè non è l'apparato regolamentare che garantirà ai nostri figli una vita più più serena è solo ed esclusivamente quella che ormai in genere si chiama educazione civica digitale cioè è il capire come stare ieri si diceva al mondo e oggi dico in rete ecco cioè se non è questo allora non è nulla perché noi andiamo avanti per lezioni esemplari o per sanzioni episodiche ma stiamo svuotando un mare con un secchiello e ne siamo assolutamente consapevoli bene Guido io lasciarei lasciarei da parte TikTok e ti appunto ruberei ancora qualche minuto per invece chiederti come vedi il ruolo del garante nei prossimi anni perché credo non sia sfuggito a tutti chi è dall'insediamento del nuovo collegio anche il modo di porsi dell'autorità verso l'esterno anche in termini di comunicazione è cambiato tantissimo voi state appunto portando avanti anche un lavoro di comunicazione che devo dire è abbastanza inedito da parte di un soggetto che siamo abituati a considerare molto molto istituzionale molto terzo come appunto il garante e sicuramente questo approccio se ha stupito qualcuno però magari ha anche interessato e intrigato qualcun altro ad esempio mi interessa molto appunto l'approccio alla comunicazione che voi state che voi state seguendo e questo immagino sia poi parte appunto di una definizione di un ruolo anche nuova rispetto al collegio precedente ma guarda la comunicazione nel nostro caso come in tutti i casi è strumento è veicolo evidentemente di un di un messaggio che si vuol far arrivare da da qualche parte io devo dire che dopo 25 anni di professione legale nella più parte prestata proprio al diritto alla privacy entrando lì dentro la cosa che mi ha sorpreso di più è scoprire in qualche modo per quanto lo avessi percepito anche prima quanto la privacy sia quanto la protezione dei dati forse privacy rischia di essere una parola che allontana da noi questo ragionamento quanto la protezione dei dati sia pervasiva nella nostra esistenza è parte integrante del nostro quotidiano in maniera più o meno consapevole incrociamo la strada della protezione dei dati decine di volte in una stessa giornata è protezione dei dati il sacchetto viola o rosso della spazzatura per i malati di covid che li rende riconoscibili nel palazzo è protezione dei dati il telemarketing aggressivo è protezione dei dati quella di cui stiamo discutendo noi è protezione dei dati la sorveglianza di massa fatta dalle forze dell'ordine è protezione dei dati i controlli che l'autorità pubblica fa in relazione al pagamento delle tasse potrei andare avanti evidentemente così moltissimo partendo da questa constatazione quello che ci siamo detti è che c'è un solo modo per far male il nostro il nostro lavoro e il modo è chiuderci all'interno del nostro palazzo e restare in attesa che che qualcuno ci segnali qualcosa che è qualcosa che non va perché se quello che dobbiamo garantire e difendere è un diritto delle persone è in mezzo alle persone che noi che noi dobbiamo stare allora non c'è nessunissimo dubbio che soprattutto in Italia la pubblica amministrazione nel suo complesso le autorità in maniera particolare fanno un po' l'effetto che io ho vissuto per tanti anni insegnando in università della cattedra cioè non c'è niente da fare se stai da questa parte della cattedra di là ci sono gli studenti già tu sei più grande già tu sulla carta ne sai di più già tu ti chiami professore loro no le possibilità di interazione sono molto molto modeste ma se passi dall'altra parte della cattedra e se provi ad abbattere quella quella distanza in realtà scopri che la condivisione dei problemi e delle soluzioni è assolutamente possibile quindi diciamo che l'unica filosofia alla base di questi esercizi di comunicazione ancora assolutamente amatoriali ed episodici è quella di dire dobbiamo fare un bagno di gente dobbiamo fare un bagno in mezzo alla società raccogliere dubbi e soprattutto seminare perché perché non c'è niente da fare quello che dicevo prima cioè o l'autodifesa perché il singolo cittadino capisce che la privacy sua e quella dei suoi figli ha un valore inestimabile e quindi insomma semplicemente è più attento puoi fare le sue scelte le più libere del mondo cioè nessuno è più favorevole alla socializzazione nella dimensione digitale di quanto non lo sia io a condizione naturalmente appunto di aver consapevolezza di questo oppure la partita è completamente persa perché noi in quanto autorità di protezione dei dati non siamo in grado non saremo mai in grado ma non c'è autorità al mondo che sia in grado di garantire ad ogni singolo cittadino un diritto se quel cittadino non riconosce a quel diritto il valore il valore che merita ci sono interi ambiti della privacy in relazione ai quali noi non riceviamo segnalazioni perché il cittadino non percepisce la violazione il cittadino bussa la nostra porta in maniera ricorrente perché riceve troppe telefonate il telemarketing come un problema di protezione dei dati per i cittadini è chiarissimo ma che sia un problema di protezione dei dati uno stato talvolta troppo curioso che sia un problema di protezione dei dati la profilazione commerciale che sia un problema di protezione dei dati il trattamento automatizzato in forza del quale ti negano un finanziamento e decine di altri problemi come questi che sono però il cuore della protezione dei dati nella media il cittadino non lo percepisce e quindi non ce lo segnala per cui è ovvio che il nostro esercizio deve essere andare a raccontare ai cittadini giorno dopo giorno cos'è la privacy è raccogliere dai cittadini giorno dopo giorno le loro segnalazioni per provare a far meglio il nostro il nostro lavoro ecco il poco che abbiamo fatto in termini di comunicazione sin qui è veramente l'inizio spero sia l'inizio di un di un percorso che avremo anche il coraggio di percorrere fino in fondo perché poi insomma non è facile nel senso che accanto a qualcuno che plaude a un'autorità che si apre c'è qualcun altro un po' forse più imborgesito dai dei tempi che amerebbe viceversa l'autorità silenziosa chiusa nella torre nella torre d'amore e quindi storce la bocca come dire adesso proprio tu garante della privacy che ci stai a fare sui social insomma ecco quasi come se fosse una contraddizione in termini però ecco se avremo coraggio io credo che alla fine ecco rifacendo questa nostra chiacchierata di questa sera di una in una sera tra tra un anno potremmo dirci che in giro un po' come nell'anima poi di Repubblica digitale ecco c'è un po' più di consapevolezza di questo di questo diritto forse persino che il garante serve di meno perché se impariamo tutti a difenderci da soli tanto di guadagnato che serve di meno non credo anzi sono convito che serveva sempre più però lo prendo come una promessa di cui anche il 26 gennaio 2022 ci si rivede Guido grazie ancora per la discussione grazie a te spero appunto di avere l'occasione poi di risentirci su questo Guido Scorza componente del garante per la protezione dei dati personale buonasera a tutti grazie ancora buonasera grazie grazie a tutti grazie a tutti